Ciao a tutti, bentornati sul canale di Trattoria Sportiva, qui come sempre Mario e siamo qui a commentare il turno infrasettimanale che ha visto il Cosenza in quel di Reggio Emilia contro la Reggiana e come potete vedere dalla mia faccia io non l'ho patito affatto questo Reggiana-Cosenza conclusosi sul risultato di 0-1 Prima di iniziare vi ricordo di passare in descrizione, di lasciare like e di commentare facendomi sapere la vostra su quella che è stata la prostazione degli uomini di Mr. Albini Iniziamo questa analisi che io dividerei in due tronconi, cioè un primo tempo in cui il Cosenza ha dominato il lungo e il largo non rischiando nulla E' un secondo tempo in cui comunque il Cosenza è stato molto più attendista, in cui Mr. Albini l'ha gestita più il sinonimo alla Simone Inzaghi Ecco da questo punto di vista perché inizio secondo tempo non vediamo più qua, ne entra Curfalidis, letteralmente dopo 5-6 minuti esce Strizzolo appena ammonito Esce Caporale ammonito a inizio primo tempo, l'unico degli ammoniti che letteralmente non dico che ha finito la partita ma quasi è stato Florenzi Che ha tolto soltanto prima all'inizio del recupero per mettere Mazzocchi Match winner di giornata Emanuele Ricciardi che riavvolgiamo in asse e partiamo dall'inizio Dopo un minuto, due minuti scarsi può già stappare la partita e indirizzarla Ma decide di tirarla addosso a Baldi e lì inizia a pensare alla fortuna dell'allenatore della Reggiana Perché diciamo che oggi il passivo, almeno per quello che si è visto nel primo tempo, poteva essere molto più ampio Non dico nel secondo perché nel secondo come detto il Cosenza è stato molto più attendista Ma nel primo tempo se il Cosenza avesse chiuso in vantaggio di due gol, scusate, non avrebbe certo demeritato Anzi, anzi, perché le occasioni le hai avute con appunto il gol di Ricciardi Ma precedentemente come detto al secondo minuto ancora con Ricciardi Un Florenzi che oggi ha dato prova di carattere e di cuore Che ha sfiorato il gol in più occasioni E più soprattutto mi è sembrato un Cosenza lucido Che magari con questo stravolgimento tattico In cui magari giocatori come Gervo possono, per il momento, perché l'abbiamo visto anche con la Juve Stab Perché Gervo è stato utilizzato da trequartista dietro le spalle dell'unica punta Un giocatore come Ricciardi a tutta fascia magari ti può creare un certo tipo di superiorità numerica E anche Ricci in un modo del genere può dare la sua manforte Anche oggi Ricci non mi è assolutamente dispiaciuto Palma di migliore in campo ovviamente che va a Ricciardi Sia per il gol ma soprattutto per la prestazione che ha dato nei primi 45 minuti Quasi un giocatore al quale non avrei dato una lira Non continuo a ribadire ma che giornata dopo giornata sta meritando A pieno titolo il ruolo di protagonista in questa squadra Quando all'inizio dell'anno magari davamo questo titolo A giocatori come Fumagallo e Ciervo che vedevamo un pochettino più rodate e morse più pronti Vedere gente come Ricciardi che gioca dall'inizio Fa delle prestazioni della seconda consecutiva oltre al gol ovviamente Perché ribadisco che ha partito a Città dell'Aio, non l'ho vista Che incide è comunque un buon segnale Ma un buon segnale è anche vedere che comunque oggi sei riuscito Non avendo nemmeno la difesa titolare da questo punto di vista Riuscire a tenere la difesa O meglio portare a Mikhail Klishit Che molti potranno dire sì ma nel finale hai sofferto Ma nel finale diciamo che saltano gli schemi, salta il banco E può capitare come non dovrebbe capitare Che un uomo come Portanova possa ritrovarsi solo Però diciamo che il mister oggi è stato molto ma molto molto accorto Anche nei cambi, anche nella gestione dei cartellini Cioè questa cosa di mister Alvini mi è piaciuta Ma mi è piaciuta soprattutto una cosa Che questa squadra ha imparato Qualcosina dalle recenti Dalle recenti partite Cioè Capire che l'uomo non deve andare in porta E piuttosto di andare in porta Io ti atterro e mi prendo il giallo È già un segno di miglioramento Cioè qualcuno potrebbe sorridere Però è la verità Cioè questa squadra fino a qualche giornata fa L'abbiamo visto con i gol presi ad esempio Con la Sampdoria Ad esempio Qualche giornata prima Ma anche con lo stesso Stuttirol Per dire No i giocatori partivano E tu non li fermavi Oggi appena Un giocatore della Reggiana Provava ad alzare la testa e partire Arrivava qualcuno Che si è visto alla fine Curfalidis Che letteralmente si ci lanciava addosso E lo stendeva Cioè letteralmente Si prendeva un giallo Ma gli diceva Tu da qui non ti muovi Che è quello che a questa squadra Magari è mancato in alcune partite Cioè Corse con la Juve Stabi In alcuni momenti Dopo il gol Della squadra di Castellammare Si Cioè la grinta Perché oggi Sinceramente Ho visto una squadra Che ci ha creduto A questo risultato Dal primo all'ultimo minuto E purtroppo La classifica Ci condanna ancora Ad essere in questo momento Aspettando Frosinone Cittadella Terzo ultimi E ok Però La prova di oggi Mi fa capire Che probabilmente Se consideriamo La Se non consideriamo La penalità La classifica Mi dice che Probabilmente La testa Anzi mi dice Che probabilmente La classifica Sarebbe differente Ma molto Ma molto Differente Perché comunque Questa squadra Avrebbe nel proprio bottino Quattordici punti Che Alla undicesima Parton Scusate Alla undicesima giornata Avere quattordici punti Capite che Comunque Significa Che C'è Qualcosa In questa squadra Che purtroppo Noi non vediamo E parlo anche Di me Probabilmente Prima di questa partita E come detto Ogni squadra Poi alla fine Della fiera Varia Ogni pensiero Varia In base ai risultati Quello è poco Quello è imprescindibile Però secondo me Qualcosina in questa squadra C'è Cioè Il gruppo C'è La rabbia Di Voler fare Magari Non strafare Ma di voler fare Questo gruppo Ce l'ha Ed è una cosa Che per me È imprescindibile In un campionato di serie B E soprattutto Nelle condizioni Con le quali Questi ragazzi Si trovano Non dico ad allenarsi Perché queste cose No Però Si trovano A gestire Perché comunque Ribediamo Senza la penalizzazione Staremmo parlando Di una squadra Che ha fatto 14 punti Che per carità La squadra Li ha fatti Però la classifica Ti dice che Ne hai fatti 10 Prima vittoria In trasferta L'unica sconfitta È quella di Mantova Al 93esimo Dopo che l'avevi ripresa Cioè Forse questa squadra Riesce a raccogliere Più punti fuori Al momento è raccolto Probabilmente Più punti fuori Che in casa Cioè Forse Fa strano a dirlo Per le prestazioni Dico io Perché in casa Hai affrontato Cremonese Sampdoria Che comunque Hanno Dato un boost In più Però Comunque Hai vinto Quelle due partite Che Ti dicono Che in questo momento Hai 10 punti Ora Non è che Questa partita Eventualmente Cancella Quelle che sono state Le prestazioni Sul Tirol Però comunque Da A questa squadra Un monito Come per dire Ci siamo ancora Siamo ancora vivi Che magari Qualcuno Pensava Che questa squadra Fosse morta E il mister Giustamente Ascoltandolo Anche dopo Cittadella Ascoltandolo Anche dopo Castellammare L'ha voluto Ribadire Cioè Che questa squadra Comunque Non è morta Come tutti quanti Supponiamo Questa squadra Vive Vegeta E oggi L'ha dimostrato Andando a regge Emilia Almeno I primi 45 minuti E poi I secondi Gestendo Andando a ribadire La propria idea Di calcio Perché Che qualcuno Non mi venga a dire Che la regia Nel primo tempo Non ci ha capito Nulla Ma non ci ha capito Nulla Assolutamente Una squadra Che Ha letteralmente Preso Due dei pezzi Migliori Del cosenza Dell'anno scorso E in campo Non ci ha capito Nulla Per 60 minuti Beh Tolgo indietro 45 minuti Mi rimango Sui primi 45 minuti Che ribadisco Se il cosenza Avesse chiuso Il primo tempo In vantaggio Quanto meno Di due gol Qua Staremmo parlando Di tutt'altro Staremmo parlando Proprio di una prestazione Di una squadra Che ha distrutto La reggiana Ma Teniamoci bassi Volevamo bassi E diciamo Che il cosenza Vince meritatamente A Reggio Emilia 1 a 0 Con Un Grande protagonista Nella giornata Di oggi E nelle ultime due giornate Che è Manuel Ricciardi Con Lo splendido lavoro Fatto Dalle due punte In particolare Strizzol E poi Zilli Quando è entrato Che molti non lo diranno Perché probabilmente Non ha Non si è visto Probabilmente Molto nella manovra Però ha fatto Molto lavoro Difensivo Ha aiutato E' andato sui difensori Ha pressato Lione Ha fatto quello Che il mister Gli ha detto E Se è rientrato Nella gerarchia Delle punte Escludendo Sanko Escludendo Mazzocchi Che ormai Si è capito Sarà Farà Probabilmente La riserva In questa squadra E mi spiace Tanto E' un segnale Importante Vedere anche Magari Una prestazione Un po' opaca Di Rizzo Pino Oggi A differenza Di quella Di In casa Con la Juve Stabia Però comunque Una prestazione Che è importante Da un certo punto Di vista Perché Nelle trame Di gioco Lui e Aldo Oggi Hanno gigandeggiato E' una certa La prestazione Di Ricci Importante La prestazione Di Dallemura Solida La prestazione Di Caporale Che quando serviva Come detto all'inizio Se doveva randellare qualcuno E si è preso un giallo L'ha fatto La prestazione Di Venturi Che oggi ha rischiato Dopo che aveva fatto Una grande cosa Cioè La protezione di palla Perde un pallone Sanguinoso Meno male che l'arbitro Ha fischiato il fallo Meno male che l'arbitro Gli ha fischiato il fallo La prestazione Di Migai Che anche oggi Ci ha messo il timbro Su quello che è stato Il risultato Io sinceramente Oggi A questa squadra Oggi A prestazione di oggi Non trovo difetti Fatemi sapere voi Se qualora Trovate dei difetti Perché voglio confrontarmi Ecco Magari Nelle ultime partite Vi ho Ho chiesto poco Il vostro Il vostro parere A riguardo Magari fatemelo sentire Eventualmente interaggiamo Nei commenti Per Discutere Della partita di oggi Non vi rubo altro tempo Anche perché Sono quasi le 11 Probabilmente questo video Uscirà a mezzanotte E nulla Ci sentiamo Domenica A questo punto Perché la partita Con la salernitana Probabilmente si giocherà Domenica Come Dicono I ben informati Per motivi Di ordine pubblico Nulla Ciao a tutti E buonanotte E buonanotte E buonanotte